buonasera a tutti ben trovati al nostro appuntamento del mercoledì sera mercoledì sera appunto appuntamento che si rinnova da diversi anni a questa parte e che mette in evidenza argomenti sul nostro quotidiano economico allora argomento di questa sera sono le auto elettriche auto elettriche allora diciamo che i presupposti dell'auto elettrica ci potrebbero anche essere sarebbero anche buoni quelli della la natura stessa dell'auto elettrica farebbe pensare appunto ad un risparmio energetico un'immissione molto contenuta pari a zero praticamente emissioni nell'atmosfera di gas tossici gas comunque pesanti potrebbe essere un valore aggiunto ecologico perché comunque per diverso tempo non lascerebbe residuo per diverso tempo questo e se non altro anche la produzione stessa degli idrocarburi che comunque lascia dei residui verrebbe comunque avrebbe un minor impatto ecologico ma il problema dove sta che per estrarre i minerali necessari per fare le batterie di queste auto c'è un enorme dispendio di risorse terrestri comunque terrestri e di risorse umane tra l'altro queste terre rare che servono per fare queste batterie trovano terreno fertile nello sfruttamento di persone di bambini di ragazzi di giovani eccetera eccetera nelle diverse zone del mondo dove si estraggono questi minerali quindi diciamo che io posso dire nella mia opinione che l'auto elettrica è stata ed è oggi un grossissimo flop nonostante i tentativi grotteschi direi perché sono grotteschi sono stati del governo europeo nel istruito naturalmente dagli usa nell'introdurre il mercato nel mercato l'auto elettrica perché dico introdurre l'auto elettrica perché solo in europa c'è questa c'è questa voglia questo ordine di immettere l'auto elettrica all'interno dell'unione europea perché negli altri paesi dove c'è il petrolio tipo nel sud america non viene frega niente dell'auto elettrica quelli viaggiano ancora con i mezzi del 1950 l'ultimo dei loro problemi è avere un'auto elettrica avranno ancora i camion con i v8 e non v6 non hanno nessun problema a utilizzare gli idrocarburi così come in altri paesi eccetera eccetera il tentativo grottesco dell'aumentare i prezzi della benzina per far sì che gli utenti del motore termico passassero all'auto elettrica è stato un è stato un disastro perché comunque la gente ha preferito in ogni caso pagare quei centesimi in più piuttosto che affidarsi a un'auto elettrica che poi avete visto che prezzi hanno cioè è pazzesco cioè hanno dei prezzi esagerati a parte che la conversione da termico ad elettrico che cos'era il 2035 non ci sarà sicuramente perché comunque non non c'è né l'utilità e poi comunque le persone non sono pronte ma perché perché hanno agito su troppi fronti hanno aumentato il costo della vita cioè oramai l'ultimo dei problemi è per le persone acquistare l'auto perché non se la possono più permettere ma qui ma non solo quello è proprio il costo della vita che è esageratamente aumentato proprio su tutti i fronti quindi diciamo che l'auto elettrica di per sé è un flop già nato in partenza quindi perché mancano i presupposti perché se tu mi fai pagare un'auto elettrica che costa il doppio di un motore termico di una dotata di motore termico è chiaro che io non non ci penso nemmeno se prima mi costava 30 mila euro un'auto un'utilitaria pensate un'utilitaria 30 mila euro adesso non mi puoi non mi puoi far pagare un'auto 50 mila 60 mila euro perché elettrica ragazzi non ci siamo quindi il discorso auto elettrica è un flop già in partenza ma perché nasce questa questa voglia di imporre l'elettrico in europa ma questo perché oramai gli usa non hanno più il controllo sul sul petrolio la con la stessa arabia è fallito il lo scambio con i petrodollari e quindi diciamo che gli stati uniti si trovano in seria difficoltà perché non hanno più il controllo sul petrolio perché comunque gli arabi perché stanno zitti perché quelli c'erano il petrolio quindi stanno così stanno seduti in poltrona e guardano gli americani invece sono dei bravi contrattatori chiamiamoli così però non ce l'hanno quindi hanno risorse limitate quindi si devono muovere quindi hanno un buon grado di contrattualità però gli manca la materia prima e quindi gli arabi cosa fanno quelli guardano e non gliene frega niente del dell'auto elettrica perché sapevano in partenza che sarebbe stato un flop si sono messi lì a guardare si hanno comprato delle quote di delle quote auto perché comunque in mercedes bmw eccetera eccetera nell'azionariato ci sono gli arabi ma l'hanno fatto esclusivamente per avere delle quote di mercato dicono beh pigliamole perché non si si sa mai che magari le persone siano completamente andate a male e gli venga in mente di comprare auto elettriche invece assolutamente no quindi auto elettrica diventa un tentativo mal riuscito di gestire il mercato perché non è stato assolutamente gestito bene ma io mi chiedo io mi chiedo ma se sono così bravi gli economisti se sono così bravi queste persone se si credono così bravi queste persone che gestiscono queste aziende o addirittura questi questi vertici come fanno a non prevedere delle cose così scontate se tu metti sul mercato qualcosa che costa così tanto come pretendi che una persona se già gli fai fare una vita pesante si metta ad acquistare anche un'auto elettrica cioè oramai non si tratta più di intelligenza la gente non può proprio non può proprio non non è che non ha le possibilità cioè fa fatica a vivere quindi e aumenta aumentano le 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 utenze aumenta il gas aumenta il petrolio aumenta il cibo aumenta il vestiario fate pagare di più gli assorbenti alle donne cioè persino gli assorbenti siamo a questi livelli ma come pretendono di cioè mettete i paletti da tutte le parti non potete pretendere che uno si compri pure l'auto elettrica quindi cioè capite che diventa veramente difficile e uno dice ma allora io da chi sono governato cioè chi sta lasciamo perdere l'italia ma sopra l'italia l'europa ma sopra l'europa ancora quindi ci sono delle serie difficoltà a vedere il bicchiere mezzo pieno cioè veramente si fa fatica perché io mi chiedo veramente chi gestisca cioè perché queste cose sono gestite veramente con i piedi ma se tu vuoi se tu vuoi togliere della ricchezza lo fai piano piano lo fai un po alla volta rubi centesimi ciao aumentiamo questo di qualche centesimo alla fine sono miliardi comunque su tutta la popolazione ma se tu lo fai così in maniera spietata su tutto cioè capisci che non ottieni più niente poi perché alla fine stai distruggendo completamente le popolazioni in più metti queste queste cavolate chiamiamole così sul mercato capisci che stai distruggendo non soltanto le tue aziende cioè perché comunque sono dei flop clamorosi vedete tesla tesla cioè oramai sarà in difficoltà cioè non oggi ma tra tre anni secondo me non ci sarà più tesla perché o comunque avrà convertito un po la sua produzione ma fa delle cagate ragazzi pazzesche tipo tipo non lo so io ho visto degli scooter elettrici che manco cioè chi se li compra quella roba lì che magari costeranno anche 30 mila euro voglio dire ma ma non non ha senso ma pensate solo pensate solo l'iphone che è un telefono pensate quanto siamo stupidi noi allora l'iphone è un telefono costa 1500 euro più o meno la versione quella più bella no ora negli stati uniti 1500 euro li guadagnano in una settimana allora quello è un telefono che si possono permettere tutti negli stati uniti ma in europa cioè costa come costa in america la costa 1500 dollari qui costa 1500 euro peccato che le persone guadagnino un quarto di quella cifra ma quindi io mi chiedo ma come si fa a fare un mercato così e la gente non capisce cioè non capisce che l'iphone è un è fatto per un mercato americano dove le persone guadagnano quattro volte tanto e la gente continua a fare i debiti per comprarsi un iphone quando si possono comprare i altri telefoni che costano un terzo e che sono notevolmente notevolmente magari no però che comunque hanno un ottimo un ottimo rapporto qualità prezzo no però l'iphone ha questa questa caratteristica di essere uno status ma pure io ce l'ho l'iphone ma almeno lo uso cioè lo uso per tutte le funzionalità che ha lo uso per lavoro lo uso per c'è ma tanti ce l'hanno solo perché ha la mela su solo perché il logo della mela ragazzi siamo a questi livelli purtroppo quindi diciamo che l'auto elettrica non frega a nessuno perché nessuno spende 80 100 mila euro per avere un'auto elettrica quando si può comprare con quei soldi una macchina con motore termico super perché diciamoci la verità uno che si compra la tesla con 100 mila euro avrà i soldi per comprarla per carità però io sfido chiunque a vedere una col motore termico e una tesla di fianco dove metterebbe i suoi 100 mila euro ragazzi spero che questa puntata vi sia piaciuta vi abbia dato qualche qualche spunto scopriamo sempre qualcosa di nuovo magari non sono non è pura verità però sicuramente è un qualcosa su cui pensare buona serata a tutti grazie per la compagnia e buona continuazione